Buongiorno, mi presento, sono Gustavo Piga, sono il direttore del Master in Procurement Management all'Università di Roma Tor Vergata e con grande piacere che vi accolgo qui nella sede di Dexia, portandovi anche i saluti del nostro carissimo Presidente Sarcinelli di Dexia, che purtroppo oggi non poteva essere qua, ma che noi ringraziamo sempre per l'ospitalità che ci concede. Pochissimi ringraziamenti, ma veramente sentiti. Il primo ovviamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento delle Politiche Europee, che ha avuto questa bellissima idea coinvolgendoci, costruendo insieme questa giornata. Mi piace ricordare il contributo della dottoressa Teresa Panariello, con cui ho dialogato tutti questi mesi in vista di questa attività. Tra l'altro ci aspettano nuove iniziative in comune. Tor Vergata ha lanciato un importantissimo centro di ricerca che si chiamerà Proc Center per gli studi sul procurement nel settore pubblico e nel settore privato, diretto dalla professoressa Elisabetta Iossa, che è un'esperta che ci invidia tutta l'Europa, quindi ci saranno tanti nuovi progetti insieme. Ovviamente il ringraziamento va anche alla dottoressa Villa, a cui cederò tra pochissimo il testimone di questo inizio di giornata. Mi piace ricordare che questa è una giornata particolare per noi di Tor Vergata. Dopo il buffet, dopo il pranzo, avremo un momento per noi istituzionalmente importantissimo, che è la consegna dei diplomi di Master ai nostri masterizzanti dell'anno accademico 2011-2012, seguita poi da un saluto importante all'altro Master, l'International Master in Public Procurement Management. Abbiamo tantissimi funzionari da tanti paesi del mondo che ci onorano con la loro presenza e anche loro, anche se poi loro sono a metà del guado, perché devono fare ancora la tesi, quando torneranno nel loro paese verranno premiati oggi. Solo una parola, io mi ritrovo in questi difficili mesi a solvere un compito molto strano, a seconda del convegno in cui vado. Sono invitato a dei convegni come quello di oggi, o li costruisco, a dei convegni come quelli di oggi, dove si parla di costruire l'Europa. E poi vado a altri convegni dove parlo del pericolo che l'Europa si spezzi in due, in tre, finisca. E mi stavo chiedendo che immagine poter costruire attorno a questa figura di un'Europa così strana, così quasi schizofrenica. L'unica figura che mi è venuta in mente è quella di una squadra, uno sport di squadra. Qual è lo sport di squadra per eccellenza? Lo sport di squadra per eccellenza credo possiamo immaginare che sia l'alpinismo. Un obiettivo, una vetta molto ambiziosa. Un gruppo di persone che si devono aiutare a vicenda, portando su anche il più debole, se no non si vince. O si vince tutti insieme o non si vince. E poi siamo a metà della montagna e che succede? Poi forse è il punto più difficile, mentre stiamo costruendo questo, arriva la tempesta. La tempesta perfetta, che mette in difficoltà forse soprattutto i più deboli e che ci obbliga a ragionare. Cosa facciamo? Continuiamo con lo stesso ritmo di prima? Rallentiamo? Aspettiamo? Non lo so, non è facile. Certo che tornare indietro molto spesso è la soluzione peggiore. L'obiettivo di conquistare la vetta rimane quello più importante. La mia impressione è che quello di cui parleremo oggi certamente non è fattore né di rallentamento nella costruzione europea, né che ci ostacola nel cercare di risolvere questa crisi. Perché? Perché questa crisi in parte si basa sul fatto che ancora non riusciamo perfettamente a parlare tra di noi. Non ci chiamiamo fratelli come gli Stati degli Stati Uniti, ci chiamiamo cugini molto spesso. E quindi è ovvio che una parte della soluzione per superare questa tempesta perfetta è il continuo dialogo, esattamente come dovrebbe fare una squadra durante una tempesta. E queste occasioni, lo vedrete, non a caso, oggi qui ad aprire abbiamo due rappresentanti del tavolo che c'è stato intergovernativo con la Commissione, con il Parlamento per la nuova direttiva. Lo vedrete anche da come parleranno i nostri due relatori iniziali. Ci sono culture diverse di riferimento, che si sono trovate a un tavolo e per lunghi mesi si sono spiegate, si sono conosciute. E questo è sicuramente un qualcosa che aiuta anche gli scalatori durante la tempesta perfetta, non li ostacola. È coerente con un processo di crescita e forse anche di sostegno in questa situazione difficile. Quindi non sono due cose in contraddizione l'una con l'altra. Quindi io vi ringrazio tutti, penso che sarà una bellissima giornata. Speriamo di avere un po' di tempo anche per le domande. Peter Bennett deve capire che in Italia di fatto noi la direttiva del 2004 è diventata per noi legge un po' di anni dopo. Quindi per noi dibattere di una nuova legge che sta per arrivare pochi anni dopo, che abbiamo appena completato il processo della vecchia direttiva perché siamo un po' colenti, ci mette un po' di ansia. Ma forse dobbiamo imparare a muoverci prima e riuscire a provare le direttive molto più rapidamente, con un processo molto più semplificato. Ma penso che sarà oggetto del dibattito. La pianto qua. Ringraziando ancora la dottoressa Villa per tutto il supporto che ci ha dato con il Dipartimento, le cedo la parola e vi auguro una buonissima giornata. grazie. Grazie.